L'ufficializzazione dell'elezione di Giuseppe Fanfania, membro del Consiglio Superiore della Magistratura, dovrebbe arrivare intorno alle 22.30 o giù di lì. Salvo imprevisti, il primo cittadino di Arezzo sarà uno degli otto membri laici, ovvero non togati, del CSM. La prima volta per un aretino. Il nepotissimo arriva a questo nuovo incarico dopo aver guidato la città di Arezzo per otto anni, facendo chiudere l'esperienza del centrodestra in città, sfociata poi negli anni di vari antopoli. Un incarico arrivato dopo essere stato eletto in Parlamento tra le file della Margherita, di cui è stato anche responsabile nazionale giustizia. Adesso si apre una fase incerta in cui la prefettura di Arezzo dovrà stabilire se il nuovo incarico è effettivamente incompatibile con il ruolo di sindaco. Alcuni sostengono che non sia così scontato e ciò potrebbe portare Fanfania a continuare a guidare il comune fino all'inizio di gennaio, per poi lasciare e andare ad elezioni in primavera. Giusto in tempo per indire le primarie e decidere chi sarà il candidato per la guida della città. In questo scenario il vice sindaco 36enne Stefano Gasperini si troverebbe de facto a guidare Palazzo Cavallo di qui alle elezioni. Un'arma a doppio taglio nelle mani di chi sembrerebbe essere l'unico a poter impensierire il favoritissimo Matteo Bracciali. L'attuale capogruppo del PD in consiglio comunale appena trentenne dirigente nazionale delle Acli è un renziano di ferro e nella città che circa un anno fa è risultata la più renziana d'Italia dovrebbe vincere a man bassa. Da capire saranno anche le intenzioni di Pasquale Macri attuale assessore alla cultura, Francesco Romizzi assessore allo sport e del presidente del consiglio comunale Luciano Ralli, tra i più quotati tra coloro che potrebbero candidarsi. Per ora il Movimento 5 Stelle sta a guardare mentre nel centro-destra scaldano i motori Francesco Francino e Paolo Enrico Ammirati.